o dai gara gta trial fusion allora molti mi chiedevano di fare trial fusion però abbiamo trial fusion su gta quindi è un'accoppiata vincente allora alla mia sinistra vedo già dei checkpoint e una rampa allora io immagino che devo fare così no ci sono le collisioni ho messo le collisioni ma chi è quello lì che ha tagliato il primo super salto no perché c'è buttato il mio giocatore ma sai non ho più non ho più il turbo non ho più il turbo eccomi no cavolo i razzi chi è che sto sparando i razzi no 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 sto cadendo poi è pieno di razzi wow chi è che sto sparando ho sparato dei razzi a caso su nel cielo dove devo andare dove devo andare no no fermati no di nuovo da qua ma cavolo ah perché alla sotto il checkpoint ho saltato troppo eccomi e vai ragazzi solo un giro mi sa che gta questa gara bisognava per forza farla se no o forse sbaglio non lo so ehi guarda qua che roba vai di nuovo il salto di nuovo il salto via ti supero il volo guarda che salto checkpoint preso ho le ali ormai via via turbo turbo non ho preso il turbo cavolo dai dai salto perché ho preso i razzi sono secondo ma se ero quarto quinto ottavo decimo no qua bisogna fare un mega salto ah no è la no avevo i razzi ma vuole dare mazzo a me o di nuovo mega salto non mi viene un'altra volta sì invece sono primo perché non non ha preso il turbo dai che bistarda è primo dai che porto a casa sta vittoria dai che porta io non ho scommesso cavolo questa qui è una gara da scendere dall'edificio di solito ho sempre fatto gare dove si salivano questa si scende ehi non l'ho mai fatta questa no dove bisogna andare sono ancora fermo qua io con i mani che non mi sia mai più stupendo oh no mi scherzi Ah, e poi continua la serie degli horror Ma poi la horror la, tipo che c'è un assassino Assolutamente sì, la serie horror la continuo Sei morto malissimo A me lo piace la serie horror, anche a me La serie horror penso che magari la faccio in live insieme a tutti Perché magari è più bello da vedere Si interagisce meglio Dai, ho sbagliato Dai che questa volta è buona Non è vero Dai ma perché, ma cavolo io faccio il salto No, non son morto, ottimo Secondo No dai perché Dai fermati Che fortuna Scendere dagli edifici è sempre più difficile che salirli Eh, gli architetti ce la fanno però Vai vai vai, salta Ma dai All'esistenza del mio personaggio è bassissima Perché non l'ho potenziato ancora Vai vai vai, salta Perfetto Aspetta che sono concentrato Ok ok Vai, fermati No, il checkpoint Dai, attenzione Fermati Frena Frena Perfetto Piano Ottimo No Quello pure io che mi ha fatto un ristoraggio nuovo A rambo 4 No L'ho chiamato modella Bene Vai piano 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 ce l'ho fatta non so come ho fatto ma sono riuscito a passare di là perfetto no fermati ma che cavolo ho sbagliato tasto dai che sono quasi al guardo ma chi è che lo avete già concluso non arrivato ma dai pronti nessuno fa false partenze in quanti cavolo siamo nessuno è crashato ottimo ma la bmx blu non è niente male col simbolo dietro anche blu guarda quello ammunizione buttatelo fuori non è niente no che cavolo no dai no cavolo no ho lasciato le collisioni per sbaglio no le collisioni non ci sono sì ci sono sì volevo fare senza collisioni questo è un bordello sicuro porca vacca vai 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 siamo sicuri da questa sì buono no 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 ma devi prendere un po di velocità sennò non salta ora ma il primo io non dico era appena c'era un quarto amico ma la terza è un bello grande prova qualcuno ha scommesso io non ho scommesso cavolo ieri il popolo del mondo chiaro sono delle malate queste vai avanti aspettati di tutto da queste gare da che parte via il checkpoint quindi vado qua perfetto bidoni vai 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 dai che è una figata sta gara dai avanti pedala pedala vai 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 prendo il checkpoint adesso dai 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 che sono sempre primo dai dai che arrivo primo il cardino del podio è mio salta 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 vedo qui il traguardo e la vittoria è mia vai gara bmx 450 a me viene sempre da dire 4 tempi è più forte di me ce l'ho con le moto no è troppo bella la moto mi vicino di casa c'è l'uguale minchia è troppo bella è uno spettacolo vai adesso però diventa un po' freddo per guidarla a me che c'è un cavino le motard vai hop e l'antenna ci voleva vai salta perché non ha saltato perché non ha saltato ma com'è possibile cavolo sono ma chi è il primo oh la ci ho impiegato un'ora e mezza veramente per fare il primo pezzettino ma per prendere il checkpoint devi cadere sulla cupola se no non ti arrivi io passo vicino ma non me lo dà si qua devi proprio ogni volta stare fermo e saltare il primo ormai è imprendibile mi sa che tutte le scommesse è caduto è davanti a me tutte le scommesse sono perse abbiamo tutti scommesso male abbiamo perso 10.000 dollari non sei il metodo Bistard per salire sulla terra e lui è finalmente no Bistard è primo è caduto ok ok Bistard rimane primo rimane primo che ma non è che per il fondo dove ci sarà botte da galeotti no sono caduto dai dai vai 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 perché non riesco più a saltare non riesco più a andare dritto è una cosa è più forte di me ho un po' esagerato GTA perché io vorrei vedere un tizio con una BMX saltare così però mi sembra leggermente giù in mezzo ho finito i container sono dentro nella prigione vai ho avuto una difficoltà inverosimile a fare qui i container no ma poi dovevo andare in gare malate 23 dovevo andare in tutte le gare malate questa gara qui è veramente assurda però è bellissima Mike Schoss e Camper quella che dicevi che andava su nell'Olimpo ci ho messo una vita a trovare sui social quella lì ti dico ho impiegato tre minuti scarsi a farla con la motora cross perché con la motora cross non senti tutti i container cioè farla con la Bati non so quanto ci avevi impiegato dieci minuti penso dieci minuti qualcosa provate a usare la moto da cross ci impiegate tre minuti scarsi perché è una cosa inverosimile è semplicissimo da fare con quella moto l'ho scoperto dopo però la Trust sembra molto più brutta ma a fare i salti eccetera la Trust ha il suo perché una vasca da bagno però qualcosa di buono ce l'ha sono dentro il container però adesso ce l'ho nel culo vai 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 salta salta oggi è pazzesco non riesco a fare nessuna gara vai salta io il secondo e il terzo io sono il secondo adesso sono il terzo siamo tutti qua e non usciamo a fare sto pezzo dai sì vai avanti 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 che mi sta finendo la resistenza sono a metà traguardo traguardo dai che le scommesse sono in salvo vai in impennata voglio finire finisco in impennata ciao Grazie a tutti